E sai quante persone sono lì nell'ascolto, nella ricerca, confuse, non sanno neanche loro magari veramente il loro bene. Quindi è da un po' di tempo a questa parte che sto valutando anche l'opportunità, la possibilità, quando riesco naturalmente, di intromettermi in determinate situazioni e poter portare un messaggio dalla parola di Dio. Quindi noi veramente siamo ambasciatori del regno di Dio. Ovunque ci troviamo l'ambasciatore rimane ambasciatore, cioè non è che è il nostro mestiere, come cristiani. Poi c'è chi a Dio magari dà più opportunità, ci sono persone magari più versate per un aspetto pratico piuttosto che come in un esercito. Io quando ero nell'artiglieria facevo parte della batteria, cioè della compagnia comando e servizi. Poi c'era chi era addetto alla contraerei, c'è chi era addetto alla mensa, c'è chi era addetto a sparare con i carri armati. Ognuno ha il suo ruolo, un po' come un esercito. Gloria a Dio, siamo l'esercito dell'Eterno. Alleluia! E le schiere dell'Eterno sono tutte attorno a noi, come disse il profeta Eliseo al suo servitore. Soltanto il Dio ci apre gli occhi per considerare questa verità spirituale che veramente non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Perché veramente il nostro regno di cui noi facciamo parte è un regno che a differenza di tutti gli altri regni, il nostro regno non avrà mai fine. Con questo non ci vogliamo esimere da fare il bene, dice fate il bene, ricercate il bene della terra dove Dio vi ha posti. Quindi anche questa è una forma di evangelizzazione, cioè dare testimonianza lì dove Dio ci ha collocati. Ecco perché se noi facciamo professione di fede e viviamo contrariamente agli insegnamenti di Cristo, insomma oltre a fare una brutta figura facciamo biasimare, dice San Paolo, la dottrina di Dio, così non sia. Invece se noi facciamo bene gli uomini ci osserveranno e cosa dice Gesù? E allora daranno gloria al Padre vostro che è nei cieli, vedendo le cose buone che fate. Quindi siamo testimoni, ambasciatori e araldi del regno di Dio che già ha cominciato a essere nei nostri cuori, ma un giorno sarà pienamente manifestato gloria al suo nome.